Ingredienti per 4 persone Parmigiana 4 zucchine Zucchine 1 chilo Salsa di pomodoro 1 litro 1 cipolla asterisco mozzarella 300 g Parmigiano grattugiato 100 g Farina 200 g Basilico Olio di semi Olio extravergine di oliva Sale Preparazione per 4 persone Parmigiana 4 zucchine Parmigiana 4 zucchine Lavate le zucchine Asciugatele Affettatele nel senso della lunghezza Passatele nella farina Friggetele nell'olio di semi caldo Sgocciolatele e asciugatele sulla carta assorbente In un tegame con l'olio rosolate la cipolla tritata Versate la salsa di pomodoro Insaporite con il basilico Salate e continuate la cottura per 15 minuti In una pirofila disponete uno strato di zucchine Condite con la salsa Spolverate con il parmigiano Coprite con la mozzarella affettata Ripetete il procedimento fino all'esaurimento degli ingredienti Terminando con il parmigiano E infornate a 180 gradi per 20 minuti Grazie a tutti